Il registro nazionale sulle coagulopatie congenite è un punto di riferimento per tutta la comunità scientifica nazionale che si occupa di emofilie, società scientifica, associazioni di pazienti, istituzioni, ricercatori. È un registro che però deve migliorare, ci sono diversi punti dei quali si è discusso oggi, ci facciamo chiarire questi punti da Enrico Ferrigrazi di Fedemo. Dottor Ferrigrazi, vediamo le cose un po' dall'inizio. Innanzitutto, quali sono i dati che vengono raccolti in Italia sull'emofilia e da chi vengono raccolti questi dati? Vengono raccolti dati clinici e dati di utilizzo delle terapie e dell'impatto di queste terapie sui pazienti. Vengono raccolti dai centri che si prendono cura di questi pazienti, che sono dislocati in tutta Italia e si sviluppano su tutto il territorio nazionale. Quindi i dati, lei l'ha detto in un po' sintetico, invece vorrei approfondire di più, quindi quali sono i dati che esattamente arrivano? Quindi quelli di tipo anamnestico, la condizione clinica, le terapie e inoltre, vengono raccolti una tantum, cioè quando il paziente viene arruolato, oppure è una fotografia o è un film in evoluzione? Allora, vengono raccolti, come diceva, i dati clinici, i dati di utilizzo del trattamento e quelli che sono tutti gli impatti della patologia in termini di qualità della vita, in termini di impatto clinico e quindi quelle che sono tutte le sequele della patologia. Generalmente vengono raccolti alla baseline e quindi all'arruolamento del paziente e poi in modo sistematico, longitudinale, durante il corso del trattamento del paziente, quindi ogni volta che poi il paziente accede al centro. Quindi noi di Mario Rossi possiamo sapere non solo i dati clinici, ma anche quale farmaco sta facendo, se l'ha cambiato nel corso della sua malattia, nel corso della sua vita, gli effetti collaterali anche del farmaco, cioè c'è tutto, anche questi aspetti? Sì, gli effetti collaterali sicuramente vengono controllati da un punto di vista della sicurezza dei farmaci, soprattutto quando si parla di farmaci innovativi e quindi di terapie innovative, ma soprattutto quello che viene monitorato è l'effetto della terapia sugli outcome clinici dell'emofilia e quindi quelli che sono i sanguinamenti e l'impatto sulla salute articolare. Insomma, uno studio clinico che riguarda tutta l'emofilia in Italia è di conseguenza molto prezioso. Lei è un farmaco economista, quindi questi dati hanno poi anche un possibile utilizzo di tipo farmaco economico per stabilire appunto l'efficienza delle varie terapie? Certo, questi dati sono utili non solo dal punto di vista clinico, quindi per capire l'efficacia delle terapie, ma anche da un punto di vista di utilizzo delle risorse sanitarie. E quindi una volta capito il costo di queste terapie possono essere utili anche ai policymaker e ai loro interlocutori, quindi le associazioni e i pazienti stessi, per andare a capire qual è la terapia più efficiente e garantire l'accesso a tutti. Ecco, lei come spiegava nella sua relazione ha sollevato il problema che questi dati fanno un giro un po' lungo. Passano di troppe mani, di conseguenza ci sono delle inefficienze. Ecco, ci spiega di cosa si tratta. Sì, purtroppo abbiamo un registro che è promosso dall'AICE, dall'Associazione dei Centri Emofilia, e che viene ospitato in seno all'Istituto Superiore di Sanità. I dati vengono immessi nel sistema dei centri emofilia, ma purtroppo non tutti i centri riescono a fornire i dati e quindi ci sono un po' di passaggi che rendono un po' inefficiente il processo. E quindi c'è un po' di difficoltà nel raccogliere i dati aggregati per poi poterli analizzare. Perché è lunga l'immissione dei dati? C'è qualcosa che richiede parecchio tempo? Ci sono tanti dati da raccogliere, ma soprattutto, purtroppo, per le caratteristiche del nostro sistema sanitario, quindi il fatto che sia regionale, chiaramente ci sono tanti sistemi che tante volte non lavorano insieme e non comunicano. E quindi la comunicazione dei dati tra i centri emofilia, l'AIC, le regioni e l'Istituto Superiore di Sanità è talvolta complicata. Fedemo cosa propone? Fedemo propone una semplificazione del sistema di collezione dei dati attraverso un lavoro collettivo di tutti gli interlocutori e gli stakeholder del registro per riuscire ad avere una risorsa comune e nazionale per poter capire qual è l'epidemiologia in prima battuta e poi quali sono gli effetti clinici ed economici della patologia. Darebbe più forza a tutto il sistema, ai pazienti, innanzitutto, alle istituzioni, ai centri clinici? In fondo servirebbe anche alle aziende per capire l'effetto dei loro farmaci nella vita reale? Sicuramente, un registro efficiente ed efficace è utile a tutti perché fornisce ai pazienti la possibilità di utilizzare i dati per scopi di advocacy e quindi nell'interlocuzione con le istituzioni. Fornisce alle istituzioni le informazioni necessarie per capire qual è l'impatto della patologia dal punto di vista clinico, dal punto di vista economico e chiaramente poi fornisce alle aziende e ai produttori dei farmaci dati necessari per, uno, capire qual è l'impatto e l'unmet need della patologia e due, qual è il costo e l'efficacia dei loro trattamenti una volta che entrano in mercato.